Ciao a tutti e bentornati nel mio canale YouTube. Io sono Lorenzo Cozzarini e nel video di oggi vi voglio far sentire come suonare un rudimento nelle congas. Il rudimento che andiamo a vedere oggi è il rullo. Più esattamente andremo a vedere 10 rulli, partendo dal rullo A5, quindi formato da 5 colpi, per arrivare al rullo A15, formato da ovviamente 15 colpi. E partiamo ora a vedere tutti questi rulli. Grazie per la visione! 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 Questi erano i 10 rulli presi singolarmente. Ora proviamo a prendere gli stessi rulli e a inserirli all'interno di un ritmo. Il ritmo che vado a prendere è un tumbao fatto a una congas. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!